a chicco apparecchi al culo che è pronta la ciccia no così non ce la faccio ecco così va un po meglio o diceva sempre nonno ugo se successe mettegliene a busta in testa e vedi che diventano carucci davide davide oddio che vuole questo nome se magna che vuoi chicco t'ho detto 2000 volte non devi correre dopo tu carbonare che te viene infarto a corso 100 metri sta più sudato di un pornattore il 15 agosto dopo una gangbang di 7 ore stai un po' fuori forma eh una forma rotonda diciamo che vuoi veni in braccio e chi gliela fa pesi dubiotto no guarda non gliela faccio zi non gliela faccio proprio eh non me vuole male ma non gliela faccio vuoi pure la maglietta vabbè tiè questa ta metti quando dimagrisci 50 kg ci vostri mancano 5 minuti alla fine mi so giocato il gol insegnate mai oh oh questo è fallo eh arbitro ah no so io l'arbitro è vero oh ma che te tocchi che so qua la slabbrata di tua madre vien qua vien qua pia di sto pugno di pegaso la prossima volta ci pensi due volte vista prima io ma che sta di ho vista prima io a chiappo prima io oh oh è mia e il mister mi ha detto forza famo un cambio al volo e io l'ho fatto più al volo di così c11 affondato sono fenomeno a battaglia navale bono suarez bono suarez bono suarez oddio questo mi mozzica aiuto chiamate la polizia chiamate la polizia tranquilli la prendo io ah no non l'ho presa oddio la prendo io no nemmeno stavolta la riprendo io no nemmeno stavolta madonna quanto spigna la trap pa 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 ha 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 aiuto 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 belli chicchi se il video vi è piaciuto e volete una nuova puntata lasciate almeno 12.000 like e noi ci vediamo al prossimo video belli chicchi volevo ricordarvi che nel primo commento vi lascio il link per entrare nel mio canale telegram e ci vediamo al prossimo video belli chicchi